segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora ignacio qua dobbiamo fare un video messaggio perché da presidente del senato bisogna condannare i fatti avvenuti a firenze certo mi guardi leggi i cartelli poi io taglio ci metto un intro e ce lo portiamo a casa con cinque minuti sto video va bene e azione questa è una cosa inedita io condivido questa valutazione stop ma se non dice cosa la gente che ne sa che cosa condivide lo riesce a leggere questo no anzi sicuramente no va bene va bene cambiamo cartello non c'è problema mi raccomando pronto carico e azione io sono anche antifascista stop stop un altro ignacio finito cartelli torna domani ma no leggi questo cartello torni domani altrimenti non se ne fa nulla io ci ho provato